In questo tutorial voglio dimostrare la formula della distanza tra due punti. Nel piano cartesiano considero due punti, il punto A e il punto B. Il punto A di coordinate xA, yA. Il punto B di coordinate xB, yB. Lo scopo è andare a determinare la formula della distanza tra A e B. Per far questo considero il punto C che si ottiene proiettando il punto A sulla retta passante per B perpendicolare all'asse delle x. Voglio ora andare a individuare la distanza che c'è tra il punto A e il punto C e la distanza che c'è tra il punto B e il punto C in funzione di xA, xB, yA, yB. La distanza AC risulta essere congruente alla distanza che intercorre tra xA e xB e questa distanza la dobbiamo scrivere come valore assoluto di xA meno xB. Metto il valore assoluto perché mi devo garantire che il valore che ottengo sia un valore non negativo. Vado ora a considerare la distanza di BC. Il segmento BC è uguale al segmento yB, yA. E allora per calcolare questa distanza andrò a scrivere yA meno yB tutto quanto in valore assoluto. Questo perché mi devo garantire che la distanza tra questi due punti sia una quantità non negativa e allora la distanza tra B e C risulterà essere valore assoluto di yA meno yB. Fisso ora l'attenzione sul triangolo ABC. Questo triangolo è un triangolo rettangolo e quindi posso applicare il teorema di Pitagora andando a scrivere ipotenusa al quadrato, ossia AB al quadrato, deve essere uguale a cateto al quadrato, ossia AC al quadrato, più l'altro cateto al quadrato, ossia BC al quadrato. Tenendo ora presente che AC è uguale a valore assoluto di xA meno xB e BC è uguale a valore assoluto di yA meno yB, posso riscrivere AB al quadrato in questa maniera. Posso ora riscrivere questa uguaglianza togliendo i valori assoluti, ossia AB al quadrato è uguale a xA meno xB al quadrato più yA meno yB al quadrato. I valori assoluti li posso togliere perché queste due quantità sono entrambe elevate alla seconda. Da questa relazione, infine, estraendo la radice quadrata di tutte e due i membri, otteniamo che AB è uguale alla radice quadrata di xA meno xB al quadrato più yA meno yB al quadrato. E con questo termino il tutorial sulla dimostrazione della distanza tra due punti.